Vai! Stiamo fermi? No vabbè, ma dai! Abbiamo scoperto! Questi sono i canditi sopra, i cioccolatini di canditi! Guarda! No, ma queste a me piacevano un sacco! Guarda che le hai mangiate tutte! No, queste creano dipendenza, eh, quelle caramelle! Sì, queste creano dipendenza, sì! Lulli Smarties! Vabbè, non mi sta ascoltando! No, non ti ascolto! Hai capito cos'è? Sì, mamma mia! Dai! Ciao a tutti ragazzi! Siamo la mia! E benvenuti in un nuovo fantastico video ragazzi! I vermicelli! Vermicelli, 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 vermicelli! Aspetta, è un vermicello di caramelle infatti! Buono! Noi li abbiamo sul serio i vermicelli di caramelle! Abbiamo mi sembra i vermicelli di caramelle! Ragazzi, fateci sapere qual è la vostra! La caramella preferita! Ce ne sono tantissimi! Orsetti, caramelle gommose, vermi di caramelle, liquirissie, coccodrilli e ce ne sono tantissimi! Ce ne sono tantissimi! E poi una cosa super importantissima ragazzi! Stiamo registrando alle 10 di mattina! Io sono costretto a registrare di mattina quindi se lo dovete! Un mi piace per Molly! Vi prendo! Che mi costringe! Allora, un mi piace per Molly lo mettiamo! Però la mattina, scusate ma voi preferireste? Io voglio dormire! Ma voi preferireste andare a scuola a fare i compiti oppure a giocare ai vermicelli? Vabbè, a giocare ai vermicelli! Comincio io perché sono costretto! No, no, no! No, no! Salso cartaformici! Guarda che bello! Salso cartaformici! Questo vermicello è bellissimo! Allora vado a prendere i vermicelli! Guarda! Ci sono anche gli orsetti! Oh! Dovevo giocare io! Guarda! Io mi mangerò! Tutti gli orsetti che troverò! Oh! Penserà! No, non sia bello! Guarda! Gnom! No! Eh ma i vermi fanno così eh! Hai visto? Che schifo! È come il serpente! Eh! Ma hai visto che cambia proprio tutto? Eh sì! Guarda! Cambia anche il colore! Allora vai! Andiamo avanti! Ma perché si mette così tanto? Ma infatti è lentissimo questo vermicelli! Dai verme! Oh! Attenzione! Verme! Va un po' a scatti questo verme! Oh! No perché non so pilotarlo eh! Infatti stai andando molto lentamente Molly! Devi andare veloce a destra e a sinistra! Oh mamma! Guarda com'è gigante! Bello! Ma cosa è? Ok! Comunque è più che un verme è diventato un serpente! Cioè è gigante! Queste qui sono quelle caramelle a cono! Sono buonissime quelle! Cerchiamo di mangiarle! Sono troppo buone quelle! Soldini! Oh attenzione! To Candy City! Vai! Nella città caramellosa! Le caramelle! Oh! No! Si sta accorciando il verme! Attenzione! Attenzione! No! Candy City! No! Oh! C'eri quasi però eh! Stavi per arrivare a Candy City! Due a testa! Due a testa! Carrello! Perché due a testa? Oh! Possiamo a breve cambiare il tipo di caramella eh! Ma ancora non possiamo! Abbiamo solo 49 monetine! Mi sta venendo fame! No! I cuoricini! Buoni! I cuoricini! Vai! Prendi tutti i cuoricini! Vai! Cuoricini! 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 Ma come stai pilotando questo verme? Non lo so! Infatti va lento eh! Ma va lento e poi veloce! Attenzione! Oh! No! Molly! Sei un disastro! Le gelatine! Le gelatine di frutta ragazzi! Le morosite! Si chiama morosita! Hanno un sacco di zucchero! Si chiamano morositas! Sono buonissime! Sono molto buone! Attenzione! Wow! Ok! Ma sai perché? Più vai a destra e sinistra! Sì! Più va veloce! Ah sì! Quindi vedi? Se vado lentamente non si muove! Guarda! Destra e sinistra! Oh! Cosa sto io dicendo? La frutta! La frutta candita! Attenzione! No! È gigante! Guarda! È gigante! Non ci credo! Candy City! Vai! Candy City! Vai! 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 Oh! Attenzione! No! Si sta accorzando! No! Eh! Ma! Però! Se fai così si accorcia di più secondo me! Vai! 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 Attenzione! Reby Master di caramelle! Oh! Guarda! 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 Non le lascerò ferme nemmeno! Magna! Magna! Attenzione! Ma! Come si muove questo verme? Hai ragione! Infatti non è semplice! Oh! 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 Vai! Più 30! Più 30! No! Vabbè! Adesso lo facciamo più largo o più lungo? È sta gigante! Lo facciamo più largo o più lungo? Più lungo? Più lungo! Allora qui! Vai! Oppure più largo perché no! Il muro ha bisogno di romperlo! È gigante! È gigante! È gigante! Ho già fatto il record! Attenzione! Oh! Oh! Ma sai che esiste veramente un verme così gigante di gelatina? Ma quando mai l'hai visto? Esiste nella vita reale! Sì! Sicuramente! Lo volevo comprare! Comunque volevo dire questa cosa! Lo sai perché non ci fa andare dritti? Eh! Perch'i vermi si muovono solo così! Ah! I vermi si muovono così? Eh sì! Record! Ma è gigante! Ma è gigante! Questa è record! È record! Attenzione! VERMONE! Aspetta! Attenzione! Oh! 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 Lo lasciamo! Glorami! Te l'ha detto! Calma! Calma! Allora! Qua diventa un tycoon! Ok! Quindi? Il tycoon delle caramelle dei vermi! Quindi puoi prendere tutti i soldi che vuoi E poi possiamo creare qualcosa Non ho un tempo limite Non lo so sai E questo anche torna lì dietro Aspetta aspetta non spendere le monete No aspetta E' troppo è troppo A sinistra guarda C'è la statua della hero Hero sulle caramelle Candy cane Vediamo Ma perché ce lo sta mettendo Ma ci ha fregato Ma non ne ho più Non ne hai più Si sono altre caramelle da prendere Non succede niente Però ne ho ancora 182 Ah ogni tipo di caramella Quello era solo i candy cane E che sono queste I coni di caramella Prendene altri Non riesco a prenderle tutte Dobbiamo creare la città dei vermi di caramelle Non riesco a prenderle Il cono vabbè Vabbè vai a metterlo Vai a metterlo Vediamo Altri Vediamo se sono questi No 22 su 50 Non erano queste le caramelle Andiamo a vedere se qua possiamo avere altre caramelle Oh io vorrei giocare però Aspetta Candy tree Ne abbiamo parecchi Ne abbiamo parecchi Ne abbiamo un sacco Attenzione Oh L'albero di caramelle No Bellissimo Senti vai avanti Che voglio giocare anch'io Qua ne servono meno 35 vediamo 35 no Non ne abbiamo No Ok Questo Stick Attenzione Ce ne abbiamo Attenzione 40, 50, 60 Bellissimo Sono dei marshmallow È un albero di caramelle Raccogliamo anche un po' di monetine Sentirevi Puoi giocare che vorrei Fare anch'io Volevo fare Candy cane Qua non abbiamo Vabbè basta dai Voglio solo provare questo Oh Attenzione 39 su 75 Vai Andiamo avanti Andiamo a raccogliere altre caramelle ragazzi Vai con gli orsetti No Rebi no Uno ne hai preso Uno Eh lo so Ho sbagliato Attenzione Ci sono No Ma non prendi niente Allora qui disastro Senti Se senti che fa pure Eh li mangia Perché sono buoni Ma allora Rebi mamma mia Ma prima lo sapevi pilotare bene Ho perso il tocco del verme Attenzione Mamma mia che verme Candy city Che bello è già il mio turno Hai giocato già due volte Non è vero Non è vero Sì hai giocato già due volte No dai Oh guarda No basta No 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 basta Rebi no no City progress City progress Vai con la statua Eh no Oh Rebi hai già giocato troppo È per i miei gusti Basta tocca a me Rebi eri qui anche prima Ma non succede niente Basta Dai No Molly mi raccomando Prendili tutti eh Io mi immagierò Tutti gli orsetti che troverò Penseranno Ma sta andando da solo Mamma mia è lunghissimo Penseranno Non sia bello Ma non lo pensano più Se li arrivo a la cervella Oh comunque hai ragione I vermi vanno solo a destra e a sinistra Non è semplice È per quello che non ci fa andare avanti Diversamente Non è il gioco che è buggato È proprio il verme che è buggato Il verme è buggato Dai Ma perché te ti si accorgia così facilmente Quando è in fondo Allora Wigs Devi stare a destra Ma cosa sono queste? Stai fermo ti vengono contro Li prendi È vero Vai Stiamo fermi? No vabbè Ma dai Abbiamo scoperto Questi sono i canditi sopra I cioccolatini di canditi Guarda Sei gigante Sono gigante Vai Qui 25 Eh questi però non si muovono Questi non si muovono Devo andare pian piano io Così Vediamo Così Bravo Molly Vedi che se vai un po' destra Sì Bene Molly Bravo Bravo Molly Bravo Molly Attenzione Number one Adesso però devi arrivare fin in fondo Oh adesso adesso Deve arrivare Sì Vai Secondo me riusciamo a fare l'albero City Allora Vediamo un pochettino Qua Vediamo Qua ne abbiamo molti Dai Sì Dai Sì No vabbè bellissimo Il candy cane tree Cioè vedi qui Basta stare così È l'albero È l'albero Dei canditi Dei canditi di caramello No 55 Guarda quante Un bel po' Un bel po' Vero Molly Devi andare a correre Niente No no Uh banane 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 Non sono banane Cosa sono Mandarini 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 Dai guarda che non hai più Non hai più niente Devi andare No stai tranquillo Oh sei stata tre ore qua A parte che tocca a me Perché hai già giocato due volte No ho giocato una volta Banane Ah no non sono banane Monetine Le banane candite non ci sono Va bene Sì però esistono Esistono Come non Ragazzi ma non ho mai mangiato Le caramelle delle banane Le caramelle delle banane Cioè voi avete mangiato Le caramelle Quelle a forma di Banane tutte gialle Che sono zuccherate Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Mi raccomando Chi di voi ha già assaggiato Le caramelle alle banane Scrivetecelo qua sotto Nei commentini Remy Ma quanto stai giocando Ma quanto stai giocando No non ho giocato tanto Hai giocato tanto Hai fatto già due livelli Mi vogliono tagliare il verbe No Tocca me Ti sei fatto tagliare Il verbe di caramelle Allora adesso starò ferma qui E mi mangerò tutte le gelatine Eh brava la mia tattica Mi mangerò tutte le gelatine che troverò Allora se ti taglierai pezzo Ma io non voglio farmi tagliare tutto il cervello No 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 Gelatine gelatine Valla valla Allora larghezza perché si serve Rimaniamo in mezzo Rimani ferma bravissima Hai capito come fare Brava Hai visto Qui abbiamo i mandarini Mandarini Ok guarda guarda Ho capito perfettamente come giocare a questo gioco Brava sei proprio una verba Una verba Un gioco di caramelle non poteva sfuggire È al controllo della Reby Ma è Reby Oh piano piano È gigante Tipo te dopo che mandi Oggi al pranzo di Natale ogni volta Non è vero Come no Andiamo Oh piano I soldi li puoi prendere se vuoi Dai 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 so che ci arrivi So che ci arrivi il braciello Ok ci siamo Forza Allora Guarda quante monete Monetine Adesso mi metto qui nel mezzo Ah E le monetine verranno da me Vediamo un po No Quelle no Reby Quelle no Sì sì anche queste Guarda Oh Io voglio questa statua Vediamo un po Quante ne abbiamo Ok Eh dai a breve però ci siamo Allora adesso voglio fare il giro degli alberelli Il giro degli alberelli Pink buffer house Eh ancora non ce l'abbiamo Buffer Eh ancora non abbiamo trovato Lili Stripped candy Niente Andiamo niente Vediamo qua Candy car Niente Sì ma Reby secondo me conviene giocare un po Poi quando ne abbiamo parecchi Andiamo a metterli Sennò non è che possiamo fare i giri Non abbiamo niente No però guarda Adesso finiamo questo Eh vabbè Voglio vedere se Senti 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 che rumore Mangia Allora andiamo a metterle qua Qui secondo me ce la facciamo No No Reby almeno gioca due volte Poi andiamo a metterle Aspetta Voglio provarci La candy car Non c'è nulla Reby Qui qui secondo me Ah monetine Reby però dai Io vorrei giocare Va bene un attimo Non mettermi fretta Voglio vedere se posso fare Qualche albero di caramelle Sì ma conviene Che giochiamo un po E dopo andiamo nella città Va bene Cosa sono quei cosi Le more e i lamponi No Quelle sono le more ositas Te l'ho detto Sono le more e i lamponi Attenzione No ma queste a me piacevano un sacco Guarda che le hai mangiate tutte No queste creano dipendenza Sì queste creano dipendenza Sì Quelle caramelle creano dipendenza Assolutamente sì Assolutamente sì Adesso è finito Già finito Già finito Non arrivo neanche alla candy city Ed è già il mio turno No dai non vale È già il mio turno Ma non vale Ma non arrivo alla candy city Sono piccolissimo No Oh no 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 Sono un vermicello molto piccolino Ma molto bello Un vermicello molto bello Attenzione Dai tutti gli orsetti Comunque questo gioco Fa venire fame di dolci Fa venire fame Cioè di caramelle Corri 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 No Hai preso quello sbagliato Eh vabbè dai Può capitare Però volevo dire una cosa A tutti i nostri fan Scriveteci nei commentini Qual è la vostra caramella In assoluto preferita È difficile Io la so la mia Qual è Vediamo se mi conosci bene Dai qual è la mia caramella Le cilieze Quelle Eh ci sei quasi arrivato vicino Ma ce n'è una Che proprio Mi piace ancora di più È sempre un frutto È sempre un frutto Dai lo sapevi Te li chiedo sempre Dai Non lo so Allora ti do un consiglio È un frutto Rosso Aranzone giallo Le pizzette Non mi ricordo Dai molli Dai Ho un frutto Le pizzette Un frutto I mandarini Basta Le ciliesine Ma le ciliesine Ti ho detto di sì Però Eh non mi ricordo Loro secondo me Hanno già capito Dai dillo Ormai non ho capito Le peschine Dai le pesche Quelle schiacciate Aranzone Oh gli smarties Vabbè non mi sta ascoltando No non ti ascolto Hai capito cosa Sì mamma mia Allora le peschine Sono buonissime Ahhhhh Hai fatto paura Le peschine Dai prendi tutte le monetine Mi sa che non ce la faccio Perché no Le peschine non le abbiamo mai avute Non è vero Cosa dici Boh io non mi ricordo Delle peschine Ma perché te le ho sempre finite io Ecco Ecco perché non te le ricordi Vamos Vamos Adesso Carrello Wow Possiamo prendere un verme No però Prendiamo un verme Si però aspetta Quello colorato Molto color si Questo Si L'abbiamo preso Vai Bello 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 questo verme Ma più veloce Ah no sei te che lo stai mandando più veloce No ma questo Mamma mia ma che gusto è Ma è un verme Com'è che si dice Molti color No Tipo la sedia La sedia RGB Eh bravo RGB È un verme RGB Questo Un verme RGB Attenzione No ma è gigante È gigante Non siamo mai stati così gigante Aspetta Quanti volte hai giocato poi Eh No basta Adesso tocca me Dai fammi fare qualcosa al Candy City No andando Dai sei un verme troppo cicciottello Guarda prendo tutte le monete Da quanto son ciccio Si non so che cicciottello Dai facciamo la statua della hero Secondo me è un po' La statua Dai Oh Bellissimo Allora Reby Direi che oggi abbiamo fatto un sacco di cose con sto verme Super cicciottello Super cicciottello Se volete il secondo episodio di questo verme di Canditi Fatecelo sapere perché da noi è tutto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao